Ciao Bianconeri, sono tornato con un'altra notizia. Ti chiedo di guardare fino alla fine del video per capire questa notizia. Inoltre, se potessi lasciare un like, te ne sarei davvero grato. L'eliminazione della Juventus dalla Europa League è stato un colpo duro per la squadra, mettendo i bianconeri in pericolo per la prossima stagione. Ma il fatto è che la Juventus non gioca bene da molto tempo, come ha sottolineato l'ex giocatore Antonio Cassano. Dopo l'eliminazione, Cassano, che esprime sempre la sua opinione sulla Juventus, non poteva fare a meno di esprimere il suo pensiero sull'eliminazione. Attraverso il suo account Instagram, Antonio Cassano ha analizzato la sconfitta della Juve nella semifinale della Europa League e ha incolpato Allegri per l'eliminazione. Antonio Cassano ha sottolineato nel suo discorso che solo il Siviglia ha giocato dall'inizio alla fine della partita, dominando l'intero gioco. Cassano ha anche detto che la squadra spagnola si è guadagnata meritatamente la vittoria. Riguardo alla Juventus, Cassano ha detto, la Juventus ha avuto due contropiedi, due occasioni da palla inattiva, poi ha segnato e si è chiusa. La Juve è sempre così, va in Champions League e sembra una merda, va in Europa League e succede la stessa cosa. Questa è la conseguenza. Chi semina vento raccoglie tempesta. E quest'anno non hanno vinto nulla. Ora, Allegri cerca di scaricare la merda sugli altri, portando avanti le difficoltà, ma quali difficoltà? In due anni non hanno giocato una partita decente, sembravano una merda ed sono stati eliminati dalla Europa League. Sono d'accordo con le parole di Antonio Cassano, la Juventus non ha giocato bene contro il Siviglia. La Juventus ha bisogno di una ristrutturazione della squadra e, soprattutto, di cambiare allenatore. E tu, tifoso juventino, cosa ne pensi dell'eliminazione della Juventus dalla Europa League?